Musica Qui si batte le mani però eh, qui si batte le mani insieme a loro eh, forza, forza su con le mani Musica 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 Andà! Vieni, questa è la salsa. La vorrei rifare, anche la vorrei rifare. Va bene, forza, saluto anche per voi. E a questo punto, prima di lasciarli scappare, c'è un piccolo ricordo per loro. Allora, chiamiamo in pista la Elena e la Martina, che hanno il vestito diverso, ve lo spiego, perché non è perché abbia fatto un vestito diverso, perché loro ballano da sette mesi, di solito ballano con tutto il gruppo, sono i nostri allievi tra virgolette più vecchi, non inteso come età, intendo come anni di scuola e sono adesso anche collaboratori nostri per alcuni corsi alla G&G Dance School. A questo punto, anche per loro, salsa! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti